L'ho architettato tutto questo disegno e l'ho architettato Rigao. L'imputato per circonvenzione ed incapace in questo processo è Andrea Piaciola e non noi. Ormai manca davvero poco, entro fine ottobre arriverà la sentenza a carico di Andrea Piaciola, il braccio destro di Gina Lollobrigida, imputato per circonvenzione ed incapace ai danni della Diva. Oggi il giudice comunicherà la data del verdetto. Il suo carattere era talmente forte che mai si sarebbe fatto dire da qualcuno cosa doveva o non doveva fare. Una decisione che arriva dopo una vicenda giudiziaria durata anni, decine, testimoni ascoltati e non sono mancati anche i colpi di scena. È una cosa che riguarda me, nessuno. Il Papa ha riconosciuto la volidezza del nostro matrimonio del 2010 al 2019. Che io iniziavo a lavorare qui, veramente non ho visto. Ad aspettare con ansia l'epilogo di questo processo di primo grado, il figlio di Gina Lollobrigida, Milko Scofic, il nipote Dimitri e anche Javier Rigao che proprio in queste ore sta facendo rientro in Italia. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Oggi il giudice deciderà la data della sentenza colpevole innocente. L'accusa è quella di circonvenzione incapace. Il PM, lo sapete, ha chiesto sette anni e sei mesi per Andrea Piazzolla il massimo della pena. In attesa del verdetto continuano ad accusarsi, appunto a vicenda le parti, ovviamente, accusa e difesa. Noi siamo in diretta con l'avvocato dell'accusa insieme alla nostra Giovanna Savini. Giovanna, buongiorno a te. Buongiorno, avvocato Gentiloni. Buongiorno, siamo con Alessandro Gentiloni. Il giudice ha appena comunicato che la data della sentenza è prevista per lunedì 13 novembre, quindi non fine ottobre, ma arriviamo a metà novembre. C'è stato Eleonora, tra l'altro, l'ennesimo colpo di scena. L'APM, Eleonora Fini, ha chiesto proprio oggi, poco fa, di replicare le precarie alla lunga ringa difensiva dell'ultima volta e ha voluto sottolineare brevemente quanto lei consideri la perizia psichiatrica effettuata, anzi le perizie psichiatriche effettuate su Gina Lollobrigi da una prova chiave e attendibile all'interno di questo processo. Avvocato Gentiloni, il 13 allora arriverà finalmente la sentenza dopo anni di processo. Sì, finalmente il 13 novembre avremo il verdetto, il giudice si ritirerà nella Camera di Consiglio e ci dirà come decide questo caso. Cosa rischia Andrea Piazzolla nel caso di condanna? Noi abbiamo sentito una richiesta del Pubblico Ministero estremamente pesante, sette anni e sei mesi che è più del massimo della pena, quindi evidentemente se il giudice aderisse a questa prospettiva si aprirebbe un periodo di detenzione per Andrea Piazzolla perché è una pena che effettivamente poi viene eseguita. Vi aspettavate una richiesta da parte del Pubblico Ministero così severa, così significativa? Sette anni e sei mesi? Noi abbiamo sempre sostenuto che questi fatti sono molto gravi e quindi credevamo che la Procura li avrebbe trattati come tali. Certamente una pena di questa entità non capita frequentemente nelle Aule di Giustizia. Oggi la PM ha addirittura voluto anche replicare, lei era in aula, come ha letto questa replica, come ce la può sintetizzare insomma dal suo punto di vista? È stato importante sottolineare quanto per lei sia importante anche questa perizia psichiatrica effettuata sulla signora Lolo Brigida? Le perizie perché sono due. Il Pubblico Ministero ha voluto sottolineare un fatto fondamentale, la signora Lolo Brigida sembrava perfettamente normale, quindi per chi interagiva con lei sulle questioni di tutti i giorni era una persona che non esibiva alcuna criticità dal punto di vista psichico, però nel livello più profondo del suo funzionamento c'era questa suggestionabilità. Lei era permeata da un'idea paranoide, era convinta che tutti le volessero fare del male, anche i suoi familiari più stretti e che solamente Andrea Piazzolla la potesse salvare, la volesse proteggere. Quindi tutto quello che Andrea Piazzolla le proponeva, lei non aveva modo di elaborarlo, lo prendeva per buono, lo faceva e basta. E questo è quello che il Pubblico Ministero oggi ha voluto ricordare, questa duplicità di funzionamento mentale. Quando si parla nei processi per circonvenzione di incapace è fondamentale anche capire, ravvisare anche un danno. Questo danno noi abbiamo seguito lo scorso anno tutto l'inventario, abbiamo seguito tutte le fasi del processo, adesso abbiamo incontrato giorni fa Carlos che ci ha parlato di 30 mila euro mai pagati. Insomma questo danno, lei lo ravvisa, ci sono tantissimi debiti, li può quantificare, parcelle che non sono state pagate. Ci risulta che anche la clinica dove la signora Lollobrigida è stata negli ultimi tempi, insomma è stata pagata quella o no? Ma la lista dei debiti che sono stati certificati dal notaio, quindi da un pubblico ufficiale, è lunghissima. Gironobrigida quando è morta aveva debiti per le bollette elettriche, per le bollette dell'acqua, infatti le utenze sono state sospese, con lo stesso custode giardiniere che si occupava della sua casa e dei suoi cani, con lo scultore che le forniva il marmo per le sue sculture, con il famoso dentista 3 mila euro che sono stati chiesti all'amministratore di sostegno, con la ditta che teneva in magazzinaggio i mobili a Monte Carlo, con gli avvocati e così via elencando. Cioè ci sono pagine e pagine e pagine dell'inventario dell'eredità che riportano tutti i debiti con cui la signora è morta. È un fatto che la signora quando ha conosciuto Andrea Piazzola aveva un patrimonio molto molto ingente. Ma la signora non si rendeva conto che tutte queste cose non venivano pagate, lo stesso dentista? Cioè se era così lucida come sostengono anche loro non si rendeva conto che si accumulavano dei debiti nel corso del tempo? Evidentemente no, la signora ha sostenuto di fronte ai magistrati che per esempio le operazioni con le macchine di lusso venivano fatte perché lei guadagnava da queste operazioni. Quando invece noi sappiamo che le macchine venivano comprate a un prezzo, usate un pochino, rivendute a molto meno e i soldi andavano addirittura ai familiari del Piazzola. Quindi la signora era convinta di tutt'altro rispetto alle sue finanze? Il 13 novembre anche voi replicherete prima della sentenza, dopo la lunga ringa difensiva dell'altra volta. Per esempio c'è stata anche una richiesta che ci ha colpito molto, cioè quella di acquisire le motivazioni di un'altra sentenza, quella relativa a Aurelia Sordi. Voi come avete recepito questa richiesta e cosa replicherete il 13 se ci può anticipare qualcosa? E' la normale dinamica processuale, la difesa fa il suo lavoro, ha ritenuto di citare una sentenza, la vicenda Sordi, che a nostro avviso non è pertinente a questo nostro caso perché era una vicenda completamente diversa. Quindi lo spiegheremo al tribunale nella normale dialettica processuale. Eleonora vuoi fare delle domande perché l'avvocato deve scappare? E' interessante, si so che deve andare via, grazie avvocato Gentiloni anzi di essersi intrattenuto con noi per un attimo. E' molto interessante questo aspetto, lei lo sa, come ha appena detto Giovanna Sabini, della questione degli avvocati della difesa che hanno posto in essere anche questo ricordo dell'incapacità a intendere di volere, la soluzione a un processo verso Aurelia Sordi e molto interessante appunto al vostro punto di vista, ecco, quello che voi credete e pensate. Per voi è assolutamente sballata l'idea di ricordare, di portare come precedente giuridico quella soluzione, mi sembra di capire. Sì, per noi non rappresenta un precedente perché sarebbe un precedente se la vicenda di base fosse uguale, la vicenda di base era molto diversa e quindi la regola che è stata dettata in quel caso lì non è una regola che è pertinente per il nostro caso, si parlava di altro in buona sostanza. Ok, ecco, la posizione invece è di... In particolare in cosa queste storie sono così diverse, cioè Aurelia Sordi era stata riconosciuta comunque da una perizia incapace di intendere e volere, però il giudice mi pare, il giudice Mastroianni aveva detto che nelle donazioni che poi aveva fatto a tutta una serie di persone che erano più persone, però non aveva ravvisato un danno ai danni della signorina Aurelia Sordi, invece in questo caso mi pare che si parli appunto di 3 milioni di euro soltanto per quanto riguarda questo processo, quindi questa è la differenza? Solo questo processo e poi come sapete ce ne sono altri pendenti per ulteriori operazioni sempre contestate al signor Piazzolla, quindi diciamo il danno in questo caso è oggettivamente dimostrato. Quello che è la peculiarità di questo caso è che ci sono addirittura due perizie fatte da due giudici diversi, quindi non sono perizie di parte, non è una tesi difensiva nostra, sono perizie fatte da due tribunali diversi, uno civile e uno penale, che in tempi diversi sono pervenuti alle stesse conclusioni. Questo nei procedimenti per circonvenzione di incapace è un unicum, perché di solito la persona è già venuta a mancare quando si celebra il processo, quindi non c'è la possibilità di esaminarla, per di più da parte di due equip diverse. Credo che veramente questo sia un unicum di questa vicenda. Grazie mille avvocato. Grazie a voi. Molto chiaro, grazie avvocato. Lei conferma che adesso, perché Carlos portava l'acqua lì in quella villa, c'è adesso il ripristino delle bollette, che lei sappia, perché Carlos appunto ci ha raccontato che per un attimo non si sono messi d'accordo le due parti e c'era un problema proprio di gestione della villa, gestione pratica. Lei sa qualcosa informato su questo punto di vista? Guardi, io so per certo che sono state a un certo punto interrotte le utenze sia dell'elettricità che dell'acqua. Se poi siano già state ripristinate, ne confesso, non glielo so dire. Va bene, grazie avvocato. L'acqua è stata ripristinata, questo non lo sappiamo, perché siamo andati e i 30.000 euro di debiti anche che riguardano lo stipendio, gli stipendi arretrati di Carlos, quello lei conferma che comunque ci siano questi arretrati? Assolutamente, Carlos ha chiesto il pagamento di questi debiti al pubblico ufficiale, il notaio che sta seguendo l'inventario della successione. L'altro sono cose vecchie che risalgono al 2018 e come mai non erano state pagate? Insomma, la signora Lollobrigida sapeva questa cosa, lei era molto affezionata a Carlos. Questo bisognerebbe chiederlo ad Andrea Piazzolla soprattutto, sul perché non venisse pagato da così tanto tempo. Allora, avvocato, l'ultima domanda prima di andare via, scusa, scusa avvocato, avevo parlato col notaio e mi aveva detto che aveva cercato di trovare il canale della trasparenza di quel famoso conto all'estero dei soldi di Gina. Avete trovato riscontri in quello o non ancora? No, purtroppo no, i movimenti estero su estero ne abbiamo visti tanti negli atti, ma è molto difficile riuscire a interpretarli, quindi allo stato attuale purtroppo no. Lei, avvocato, assiste Javier Rigao e lui insiste molto su questi, diciamo, quasi 4 mila euro ricavati dall'asta famosa dei gioielli che c'è, 4 milioni di euro, scusate. Quei 4 milioni di euro, sappiamo che un milione di euro sono stati utilizzati per pagare appunto un avvocato, un avvocato di Gina Lollobrigi dall'onorario non pagato. Gli altri 3 milioni di euro, che fine hanno fatto? Si sono volatilizzati nel nulla? Non siete riusciti tramite le vostre inchieste, insomma, durate anni a capire dove sono finiti questi 3 milioni di euro? Purtroppo i movimenti estero su estero, quindi dal Principato di Monaco a Paesi Terzi, è molto difficile riuscire a tracciarli. Noi non ci siamo riusciti. Un'idea l'avete? No. Purtroppo no. Grazie mille. Grazie, grazie, avvocato Gentiloni. Allora, noi partiamo proprio da Carlos. Intanto buongiorno a tutte le nostre ospiti. Partiamo da Carlos, il custode della villa, che è la nostra Giovanna Savini. ha intervistato quella che obiettivamente è una notizia. 30 mila euro che mancano dal suo conto, dalla sua vita e soprattutto che gli servirebbero per vivere e campare come giustamente avrebbe diritto. Sentite. Veramente che io iniziavo a lavorare qui, veramente non l'ho visto. Se come racconta il fidato Carlos, il custode peruviano della villa e dei segreti di Gina Lello Brigida, a partire dagli anni in cui lui ha iniziato a lavorare per l'attrice tra gli ospiti della diva, non figurava, Rigau, a testimoniare invece il lungo legame tra la bersagliera e l'imprenditore catalano, ci sono i ricordi custoditi in un'altra lussuosa dimora. Ci spostiamo in Spagna, sulla costa Brava, qui nella villa al mare dello spagnolo, come lo chiamava la Lollo, tutto parla di lei. La mattina, sempre andava al mare, allora lei qualcuna volta faceva la scultura in cera, adesso no, ma normalmente approfittava che era qui per fare modellare la cera, che dopo portava a Pietrasanta. Mi piaceva molto andare senza scarpe per il prato. Javier ci accompagna in un viaggio inedito nel passato dell'attrice, svelando luoghi ed aneddoti. Della casa è impossibile non vedere il mare di tutte le camere di letto, sempre c'è la vista al mare. E le pavoni alla mattina, come alla Via Appia, come a casa di lei, noi ci svegliamo con le pavoni. Una bendizione papale del Benedito XVI. E questo quando si aveva organizzato il matrimonio per farsi a Roma, erano veramente una famiglia molto unita e ricordo questo con tristezza. Una storia vera, come la racconta Rigau, che ad un certo punto, come rivela, invece l'unico collaboratore di Gina Rimasto, sembrava essersi improvvisamente dissolta nel nulla. Lui ha raccontato che trascorreva qui diversi mesi l'anno, che veniva a trovarla spesso. Veramente no, io non la volevo, forse quando io ne ho stato, no? Non so, poi ho sempre stato qui. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto l'avvocatessa Sgro, avvocatessa della Sacra Rota, che si è occupata di tutta la pratica di scioglimento del matrimonio di Ginalo Lobrigida con Via Rigao. Dall'altra parte abbiamo Roberto Damiata, buongiorno, che è amica di Averri Gau e che porta tutta un'altra tesi, che è un po', come dire, da una parte la tesi dell'accuso e qua la tesi della difesa. E come tesi della difesa abbiamo anche l'avvocato Ingroia, che è stato per tanto tempo l'avvocato di Ginalo Lobrigida, prima che ovviamente Gina morisse e poi tutte le nostre ospiti. Ciao Alba, grazie di essere qui. Grazie a te. A Tavagli, buongiorno Antonella Rossi, buongiorno Antonella Martinelli, chiamo Antonella se girano tutte qua, questo è perfetto. Allora, vediamo quello che è accaduto nell'ultima udienza al processo di Andrea Piazzolla il 19 settembre. Sentite. L'ultima volta che si erano ritrovati tutti e quattro insieme nello stesso luogo risale al giorno in cui fu celebrato il funerale di Ginalo Lobrigida, circa otto mesi fa. Dallora non si erano più incontrati, fino all'ultimo atto di un processo lungo ed articolato. Piange Andrea Piazzolla, seduto sul banco degli imputati, accusato di circonvenzione di incapace. Sette anni e sei mesi, la pena richiesta dal pubblico ministero, per il reato che gli viene contestato il massimo previsto. Io so quello che è successo, per cui no, voglio dire, qualsiasi cosa succede, qualsiasi decisione venga presa, io già so. Quante cose noi avremmo voluto fare insieme a lei e per lei e non è stato possibile. In prima fila il figlio di Ginalo Lobrigida, Milko Skowicz, il nipote di Mitri, allontanato nel 2016 in virtù di uno sfratto esecutivo dalla villa della nonna dove era cresciuto. Accanto a loro l'imprenditore catalano che per lunghi anni ha fatto parte della vita di Gina. Lei è sempre stata una buona madre e una buona nonna. È arrivato appositamente dalla Spagna, non si distrae un attimo nel corso delle discussioni durate ore, mentre gli ultimi anni della vita dell'attrice, dal 2010 in poi, vengono ripercorsi minuziosamente. Una donna vulnerabile, suscettibile, secondo l'accusa. Una diva che aveva ritrovato l'entusiasmo per la vita, secondo la difesa. E chi è Piazzolla che per 12 anni ha vissuto in simbiosi con lei? Un milancatore, come sostiene l'accusa? O il sacerdote del culto di Gina, come lo descrive la difesa? Sarà il giudice a breve a stabilire finalmente la verità. Allora, la verità. La notizia, Giovanna Sabini, è che si deciderà, cioè sapremo tutto, il 13 di novembre. Novembre, giusto? Il 13, la data? Questa è stata quella, ecco. Esatto, sì. Nel frattempo, che cosa succederà? Allora, nel frattempo il giudice sta analizzando tutta la documentazione che ha acquisito nel corso di questo lunghissimo processo, ha chiesto altri giorni, questo denota proprio la sua attenzione, il suo voler leggere a fondo tutta la documentazione che gli avvocati hanno chiesto di acquisire, quindi dobbiamo aspettare. Sarà un'ulteriore lunghissima attesa il lunedì 13 novembre, però ci ha confermato il giudice proprio poco fa che arriverà anche la sentenza. Quindi ci saranno, che cosa accadrà in quella data? Ci saranno le repliche ulteriori dopo quella del PM che ha voluto replicare stamattina delle parti civili, degli avvocati Gentiloni, probabilmente anche un'ulteriore replica della difesa di Piazzolla, dell'avvocato Morlacchini, Camera di Consiglio e poi finalmente la sentenza. Ricordiamo appunto che la richiesta del PM è una richiesta altissima, sette anni e sei mesi e appunto noi poco fa abbiamo sentito anche l'avvocato Morlacchini della difesa di Piazzolla e ci ha detto una frase che ci ha fatto molto riflettere, nel caso di condanna la vita di Piazzolla potrebbe cambiare. Beh, certo, come tutte le persone in Groia davanti a una condanna, siamo in una condanna di primo grado, non dobbiamo dimenticarlo, per cui ci sarà poi tempo per difendersi, ma insomma sette anni e sei mesi non sono propriamente pochi, ecco. E ti credo che ti cambia la vita davanti a una condanna di questo genere, se non altro perché ti devi difendere se sei convinto di non aver fatto nulla. Direi proprio di sì, si tratta, come diceva l'avvocato Gentiloni, di una richiesta molto alta, anche se va detto in realtà poi non altissima, perché vero è che per la circonvenzione incapace il reato la pena più grave è di sei anni, però in questo caso è stata contestata un aggravante, e cioè quella relativa all'ingente danno patrimoniale che si sarebbe determinato, e si è contestata anche la cosiddetta continuazione, cioè che sarebbero state commesse più condotte di circonvenzione di incapace, e questo già in sé prevede addirittura fino al triplo della pena si può aumentare, quindi voglio dire è una pena, una richiesta severa, non è il massimo di quello che il pubblico amministratore poteva chiedere paradossalmente. Ah, paradossalmente comunque non è il massimo. Allora sentiamo Piazzolla che dice, a vita in diretta del 25 settembre, se mi condannano, che succede se mi condannano? Vediamo, ascoltiamo un po', negli studi di Alberto Matano. La prima cosa che voglio sapere è, qualora dovessi essere ritenuto colpevole e quindi condannato, che cosa farai? Direi aspettiamo che il giudice decida e poi valuteremo. Avrei pensato però, no? Immagino che tu sia diviso tra cosa può succedere, cosa deciderà il giudice, l'accusa è pesante. No, non mi faccio tutte queste domande, perché se no entri in un loop che non esci più. Come sta vivendo questo periodo allora Andrea? Con grande rispetto verso la magistratura e grande gratitudine verso i miei avvocati. Sereno per quello che si può, so come sono andate le cose e quindi spero che venga fuori la verità.